Oroscopo della settimana, dagli 8 al 14 luglio 2024 Ariete Amore Questa settimana porterà momenti di passione e intimità inaspettati con il partner Lavoro Sul lavoro nuove opportunità si presenteranno e sarà importante cogliarle al volo Toro Amore In amore sarà una settimana di stabilità e serenità con il partner Lavoro Professionalmente, ci saranno sfide da superare ma avrai il sostegno dei colleghi Gemelli Amore La tua vita sentimentale potrebbe vivere un momento di confusione ma la comunicazione sarà la chiave Lavoro Al lavoro nuove idee prenderanno forma e porteranno successo a lungo termine Cancro Amore Questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore complicità e connessione con il partner Lavoro Sul fronte lavorativo sarai chiamato a prendere decisioni importanti che influenzeranno il tuo futuro Leone Leone Amore La tua relazione si rafforzerà grazie a momenti di profonda condivisione e comprensione Lavoro È un periodo di grande produttività e riconoscimento dei tuoi sforzi da parte dei superiori Vergine Amore In amore piccoli gesti quotidiani rafforzeranno il legame con il partner Lavoro Al lavoro sarai particolarmente attento ai dettagli e questo ti porterà a ottimi risultati Bilancia Amore Settimana positiva per l'amore, con momenti di dolcezza e armonia Lavoro Professionalmente, sarai in grado di bilanciare perfettamente le tue responsabilità e nuovi progetti Scorpione Amore Potrai vivere intense emozioni che riaccenderanno la passione nella tua relazione Lavoro Sul lavoro avrai l'opportunità di mostrare le tue capacità e ricevere il meritato riconoscimento Sagittario Amore La tua vita amorosa sarà caratterizzata da avventure e nuove scoperte con il partner Lavoro Al lavoro si apriranno nuove prospettive che stimoleranno la tua creatività e ambizione Capricorno Amore Questa settimana sarà all'insegna della stabilità e della sicurezza emotiva con il partner Lavoro Sul fronte professionale, la tua determinazione ti aiuterà a superare ogni ostacolo Acquario Amore In amore sperimenterai una maggiore connessione e comprensione reciproca con il partner Lavoro Al lavoro, sarai ispirato e troverai soluzioni innovative per vecchi problemi Desci Amore La tua vita sentimentale sarà arricchita da momenti di dolcezza e tenerezza Lavoro Lavoro Professionalmente, sarai in grado di affrontare le sfide con creatività e intuizione Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti Grazie Castello Grazie Grazie a tutti.